Le mie attenzioni musicali sono Asciugacapelli, Polino Oliveros e Mariana Macer. Basta. Maschi no. No, gli artisti maschi della stessa scena no. Delusione e poi? Cosa devo dire? Non si capisce un caso. Perfetto, perfetto. Va bene, basta. Basta. E questa è la prima secret session. Non, non. Non, non. Non, non. Non. Non, non. Non. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti